Ciao! Allora, oggi sfogliamo l'album numero 6 del Livro Che, album che è valido fino al 17 maggio del 2017 e vedrete che ci sono tantissime novità make-up, tantissime offerte e un album anche piuttosto lungo perché ci sono tante offerte per le novità make-up, alcune offerte per la festa della mamma e le promozioni per i solari con altri set. È molto interessante come album e direi iniziare subito a sfogliarlo. Ma ciao! Allora, vado un po' spiedita perché questo è davvero un album pieno di novità. Per prima cosa, con 20 euro di trattamenti make-up, che adesso vi mostro, si è in omaggio il gel detergente che potete scegliere tra quello della Hydra Vegetal o della Sebo Vegetal. 20 euro di acquisto di make-up, tra cui anche la novità. La novità è il rossetto Rouge Vertige che è fatto in tre texture diverse che ora vi mostro e ha tanti colori davvero wow con una coprenza molto alta e ci sono tantissimi colori e la texture è molto cremosa e molto confortevole e vediamo gli effetti satinati nel nude e nel malva. le tonalità rosa, eccole qua, oppure quelle rosse. Poi ci sono gli effetti brillanti, sempre nelle varie tonalità, quindi nude, malva, rosa e rossa e dell'effetto perlato, eccoli qua. Vero dei colori wow, 9,95, offerta lancio. Ovviamente non dimentichiamoci del Grand Rouge che è fantastico come rossetto, 12,95, ultra pigmentato e a lunga tenuta, ve lo posso garantire, è molto confortevole sulle labbra. E vi ricordo che sempre sfogliando queste pagine anche le matite labbra e gli altri prodotti, eccole qua i glossi e smalti, 20 euro e 6 in omaggio il detergente viso. Gli altri smalti, eccole i trattamenti per le mani, tutti gli ombretti, che sono davvero wow, tantissimi, le matite jumbo, gli eyeliner, le matite, la matita sopracciglia che per me è la preferita in assoluto, le matite occhi, i mascara, i correttori, fondotinta, tutti i vari tipi di fondotinta, ed eccoli qua. Quindi è 20 euro per avere il detergente in omaggio. Vediamo ora il set per la festa della mamma. Questi sono delle linee un mattino giardin e abbiamo i cofanetti. Questo, vi faccio vedere uno, comprende, questo è quello ciliegie in fiore, eccolo qua, comprende le toalette da 100 ml, il gel doccia da 200 ml, la salvietta ospite più il cofanetto, tutto a 22,95 ml, ovviamente c'è anche nell'area di trattiformazione, quindi vi faccio vedere il ciliegie in fiore, ma c'è anche il mughetto in fiore, eccola qui, questo era anche più grande da vedere, è il verbena, il tè verde, gli agrumi in fiore ed è la rosa fresca. Poi abbiamo, eccola qua, le mille malva, gli altri set invece, ad esempio questo, questo è della lavandina e mora, e comprende, eccola qui, a 9,95 ml, il bagno doccia da 200 ml, il latte colpo da 200 ml, la pastiglia effervescente, la salvietta ospite più la confezione a regalo. E' carino anche questo come set, e ovviamente in tutte le varie profumazioni, questi 9,95 con la pastiglia effervescente, eccola, ad esempio ho il lampone menta, mentre lavandina e mora, sto facendo confusione, lavandina e mora c'è anche il set piccolo da 9,95, ok, le abbiamo appena visto, e il set grande, 14,95, che ha il latte doccia, il bagno doccia da 400 ml, il latte colpo da 200 ml, e le toilette, questo piccolo da 20 ml, la salvietta ospite e la confezione a regalo, quindi il set un po' più grande, sempre la profumazione lavanda, poi abbiamo l'altra profumazione, sempre il set piccolo e il set grande, se no facciamo troppo confusione, eccola qui, e le ha tutte le profumazioni col piccolo e grande di set. Eccole qui, vaniglia barbo, nocci di cocco, eccola qui. Vi mostro ora un'offerta, delle set bifasico, lo struccante bifasico occhi, che davvero è fantastico, e 9,95 abbiamo i due formati dello struccante bifasico, quindi quello da casa, chiamiamolo così, da 200 ml, più quello da viaggio da 100 ml a 9,95, ed è davvero una buona promozione. Arriviamo ora ai solari, perché iniziamo anche il periodo dei solari, e eccoci, qui abbiamo la novità intanto, che è il latte spray con protezione 50, ed è davvero comodo da applicare, perché raggiunge tutti i punti del corpo. Poi abbiamo l'altra novità, che è il latte idratante 3 in 1, è quella qua che è molto fresco, va applicato dopo l'esposizione al sole, è profumato ed idrata subito la pelle. Abbiamo poi i set regalo, con i set, con questi set che ora vi mostro, si ha in omaggio la trousse, eccola qua, con la doppia zip, che va bene per metterci per l'ottimo make-up, oppure per metterci anche i solari, perché no, perché ci stanno. Si ha in omaggio acquistando questi set, che comprendono il 19,95, il latte spray protezione 15, più il latte idratante 3 in 1, oppure la protezione medio-alta con protezione 30, a 21,95, il latte spray protezione 30 e il latte idratante 3 in 1, oppure la protezione medio-alta, protezione 30, con lo spray invisibile 0 tracce e il latte idratante 3 in 1, a 22,95, poi la protezione alta, protezione 50, 23,95, il latte spray protezione 50+, e il latte idratante 3 in 1, oppure la protezione anche di rughe, trattamento anti-età protezione 30, più il trattamento sublimatore anti-età dopo sole, a 22,95. Con tutti questi set che vi ho mostrato, si ha in omaggio la trousse, questa. Ora vediamo gli altri set, ecco che gli altri set, quelli un pochino più grandi, e con l'acquisto si ha in omaggio la borsa shopping dell'estate, che è anche carina da portare indietro. Allora, i set ovviamente sono, ed è questo, da 26,95, che comprende l'olio secco prezioso, l'olio secco sublimatore e il latte idratante 3 in 1, oppure a stesso prezzo, l'olio sublimatore protezione 15, l'olio di chiarete tradizionale e il latte idratante 3 in 1. Con invece i set completi, che ora vi mostro, si ha in omaggio la borsa shopping, più la trousse, e i set sono quelli delle due settimane al mare, chiamiamoli così. Quindi a 32,95, il latte spray protezione 15, più il protezione 30, e il latte idratante 3 in 1, oppure 32,95, e lo spray invisibile 0 tracce con protezione 15, poi protezione 30, e il 3 in 1. Sempre in omaggio questi due prodotti, quindi la borsa e la trousse. Altri set sono sempre quelli per le due settimane, con la protezione un po' più alta, quindi a 34,95, latte spray protezione 30, protezione 50 più, e il latte idratante 3 in 1, oppure la protezione antirughe, sempre 32,95, trattamento anti-età con protezione 30, trattamento anti-età protezione 50, e il trattamento sublimatore anti-età dopo sole. Credo che sia più facile da vedere il catalogo, piuttosto che io da spiegarvelo, perché credere ha fatto un po' di confusione. Allora, abbiamo sfogliato tutto l'album, come sempre vi ricordo che qui sotto, nell'info box, c'è il link per contattarmi, per gli ordini e per le informazioni, e c'è sempre anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sul vostro computer, smartphone, tablet, dove volete, e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati, con il magico naturale mondo di Brochet.